della sicurezza della collettività. Nella programmazione, e concludo, per gli anni 2015-2020 è prevista la costruzione di un nuovo padiglione per 200 posti presso il carcere di Sulmona, i cui lavori sono in fase iniziale di esecuzione e per la cui realizzazione sono state stanziate somme pari a 15.610.904.053 euro. E proprio il 20 aprile si è inoltre riunito presso il Ministero della Giustizia il Comitato Paritetico per l'edilizia penitenziaria che, nel quadro delle complessive esigenze nazionali, ha preso atto dello stato di attuazione dell'intervento. Grazie. Grazie, Sottosegretario. Il Deputato Melilla ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza. Prego, Onorevole. Grazie, Signora Presidente. Sono sicuramente soddisfatto dalla articolazione della risposta da parte del Ministero della Giustizia. L'Europa ha avuto un'importanza eccezionale nello stimolare il Parlamento a prendere posizione concreta contro il sovraffollamento che interessava alcuni anni fa in modo veramente grave e oggi in modo meno grave le carceri abruzzesi. Questo incide non solo sui detenuti, sulla popolazione carceraria, ma anche sul personale. Io non dimentico mai quando visito gli istituti di pena della mia Regione di incontrare non solo i detenuti, ma anche il personale. Il personale amministrativo, il personale di polizia penitenziaria, le varie professioni sanitarie che vi operano. Perché spesso questo personale è sottoposto per le carenze di organico a turni massacranti e condivide una situazione di, tra virgolette, reclusione, non dico analoga, ma altrettanto preoccupante, come quella dei detenuti. Quindi io non posso che condividere questi investimenti che il Ministero sta facendo per quanto riguarda il Piano Nazionale per la prevenzione dei suicidi, l'edilizia penitenziaria. Ma io invito a fare ancora di più, perché purtroppo i nostri istituti di pena spesso sono ubicati in strutture vecchie, obsolete, che hanno bisogno di grandi investimenti da ogni punto di vista, non solo edilizio, ma anche tecnologico e di sicurezza. Così come è essenziale investire sui trattamenti sanitari, psicologici, non dimentichiamoci che molti detenuti sono malati psichiatrici, sono tossicodipendenti. Così come è importante affrontare in una chiave naturalmente molto diversa il tema, tra virgolette, dell'accoglienza, visto che molti detenuti sono stranieri e che purtroppo sono venuti in Italia a delinquere e riempiono le nostre carceri. Così come è necessario investire di più sulle attività di lavoro per i detenuti, perché noi abbiamo ancora una percentuale troppo bassa di detenuti che può utilizzare questa particolare ed efficace forma di rieducazione che è appunto il lavoro. Ci sono carceri che stanno facendo esperienze molto importanti. Io vorrei citare il carcere di Pescara, in cui una direzione lungimirante sta operando un investimento anche verso professioni nuove, che possono determinare quando questi detenuti escono anche delle possibilità di sbocchi occupazionali molto concreti. A Sulmona, che è un istituto di massima sicurezza in cui sono trattenuti molti ergastolani e comunque detenuti per reati associativi molto gravi, è in corso questo investimento per l'ampliamento di 200 posti. Io mi auguro che si intervenga anche, come si è fatto in carceri, come è vasto, in modo molto lungimirante, che si faccia lo stesso anche in carceri che evidenziano invece delle problematicità molto serie, come quello di Teramo e quello dell'Aquila. Quindi concludo dicendo che noi su questo tema dobbiamo qualificare sempre di più la nostra iniziativa. Avere oltre 50.000 detenuti nel nostro Paese significa investire molto per costituzionalizzare il loro trattamento e per evitare che quando queste persone escano dal carcere purtroppo non ci tornino rapidamente perché non hanno nessuna possibilità di condurre una vita autonoma basata sul lavoro e sul rispetto della loro dignità. Grazie. Grazie, onorevole Melilla. Passiamo all'interrogazione numero 3, 447 dei deputati Morani ed altri, concernente spese per la gestione degli uffici giudiziari. Il sottosegretario per la giustizia, Cosimo Maria Ferri, ha facoltà di rispondere. Prego, sottosegretario. Presidente, ringrazio l'onorevole Morani per questa interrogazione in quanto consente al Ministero di ricostruire e di aggiornare su una questione che sta molto a cuore agli enti locali, giustamente, e che rappresenta una delle novità più importanti dal punto di vista organizzativo introdotte anche da questo Ministero, che come sapete con la legge di stabilità ha modificato e...